Che cosa succede a Roma? Più precisamente, che sta succedendo dentro la Chiesa Cattolica? Nel crescente contesto di caos che, come fedeli, stiamo vivendo, abbiamo lanciato questo canale per aiutarvi a capire cosa sta succedendo nella Chiesa, per non perdere la fede ma anzi irrobustirla, e farvi voi stessi propagatori della verità. Buongiorno, sono Giulio Loredo e benvenuti nel canale Visto da Roma. Un caloroso benvenuto a chi si è iscritto nell'ultima settimana. Se non siete ancora iscritti, vi invito a farlo. Vi invito anche a diffondere questo canale tra i vostri amici. Aiutatemi, per favore, a informare il maggior numero possibile di persone su cosa sta succedendo nella Chiesa. Continua la tempesta scatenata dalla dichiarazione fiducia supplicans del Dicastero della Dottrina della Fede sulle benedizioni delle coppie irregolari, comprese quelle omosessuali. Ogni giorno arrivano qui a Roma, da ogni parte del mondo, notizie che mostrano perplessità e dolore, quando non un aperto rifiuto. Ci sono anche numerose iniziative in diversi paesi per chiedere al Santo Padre la revoca o almeno la riscrittura del documento in questione. Gli osservatori concidono nel dire che mai si era vista una tale reazione a livello mondiale. Papa Francesco ha cercato di gettare un po' d'acqua sul fuoco, dicendo che col tempo si comprenderà il vero spirito del documento. Ha anche detto che le critiche alla dichiarazione fiducia supplicans provengono, e cito, da piccoli gruppi ideologici. Le sue parole, però, scusate, ma si scontrano con la realtà. Si è capito benissimo quale sia il vero spirito del documento e le reazioni si moltiplicano ovunque, altro che piccoli gruppi. Ci sono stati poi importanti approfondimenti critici del documento da parte dei numerosi studiosi. Vediamo uno recente. Il teologo cappuccino Thomas Winandy, già incaricato della dottrina della fede della conferenza episcopale statunitense, quindi non è assolutamente l'ultimo arrivato, dichiara al giornale La Verità, e cito, fra virgolette, «Quanti hanno una retta fede tra vescovi, sacerdoti e teologi? Riconoscono che quello che promuove fiducia supplicans non è in linea con l'insegnamento della Chiesa, e se battono per difendere ciò che il Vaticano sta cercando di minare». E padre Winandy aggiunge con evidente sconforto, e cito, «Il Signore ha affidato a San Pietro la custodia del deposito della fede e dell'unità della Chiesa, ma ora il Papa, anziché custodire la fede, sembra volerla cambiare, e invece di rafforzare l'unità della Chiesa, porta divisione». Francesco non accetta mai questa critica, ma incolpa gli altri, però non è l'ideologia altrui ad aver creato problemi, bensì la sua. Parole dure, certamente, proveniente poi da una voce molto autorevole, ma che riecheggiano da più parti del mondo, dall'Africa all'Europa, all'Oriente all'America Latina. Rispondendo a queste critiche dure, sì ma rispettose, i difessori della fiducia supplicans dicono che non si tratta di benedire il peccato, ma le persone, che non si tratta di negare la dottrina morale cattolica, ma solo di aprirsi a un nuovo sguardo compassionevole verso il peccatore. Insomma, si tratterebbe solo di uno, fa virgolette così che lo chiamano, un nuovo approccio pastorale, che non nega ma solo amplia quanto la Chiesa ha già detto da secoli. Ma è vero che in passato la Chiesa non aveva compassione per i peccatori? E che questa nuova prospettiva pastorale sarebbe una sorta di illuminazione dello Spirito Santo? No, cari amici, questa accusazione del sapore anche diffamatorio non è per niente vera. La Chiesa ha sempre avuto uno sguardo compassionevole per i peccatori. Leggiamo, e anche un'altra notizia di questi giorni, un recente articolo dell'apologista salesiano Don Marco Begato, che anzi conosco molto bene. Egli racconta una visione di Santa Gertrude di Hefta, quindi siamo nel XIII secolo, in cui la Santa vede la Madonna mettere sotto il suo mantello protettori molti peccatori. Scrive la Santa, e cito, La Madonna li accarezza, li difende e li protegge anche quando sono ancora immersi nel peccato, al fine di indurli a vera penitenza e riconciliarli con suo figliolo. Comenta Don Marco Begato, Evidentemente, nel cuore del Medioevo, i nostri fratelli e i nostri santi non erano meno preoccupati di noi dal problema del peccato e dei peccatori. Già all'epoca la Santissima Vergine era conosciuta col titolo di Madre delle Misericordie, che interviene a beneficio della umanità, soprattutto la più disorientata. La Mater Misericordia faceva e fa così, lo ha fatto sempre, ma, come sottolinea Santa Gertrude di Hefta, è per indurre i peccatori alla vera penitenza e riconciliarli col suo figlio. Don Marco Begato, in questo articolo pubblicato nei giorni scorsi, mostra quindi che le benedizioni e i sacramenti arrivano sì, per i peccatori, ma solo dopo il passaggio dal pentimento e dalla riconciliazione con Cristo. Ora, questo aspetto fondamentale non è per niente chiaro nel cosiddetto nuovo approccio pastorale, che invece preferisce mettere in rilievo gli aspetti positivi della situazione peccaminosa, anziché la grave offesa alla legge divina e naturale. Mettendo poi in risalto gli aspetti positivi, viene a mancare il conseguente appello alla conversione. Da parte sua, ed è un altro documento uscito in questi ultimi giorni, il noto teologo Don Nicola Bux, amico e consulente di Papa Benedetto XVI, ci ricorda che la stessa parola pastorale proviene dal latino pasto, che vuol dire cibo. Un vero pastore, quindi, deve dare buon cibo alle sue pecore. E il buon cibo si chiama dottrina. Il pastore che non si interessa per la dottrina, che tende a credere che dottrina e pastorale non sempre si armonizzano bene, è un pastore che non sta alimentando il suo greggio, anzi lo sta affamando perché le sta negando il pasto, cioè il cibo, secondo il ragionamento di Don Nicola Bux. Aggiungo io, uno così, più che da pastore, si sta comportando da lupo. Torniamo a Padre White Winendy, questo sacerdote cappuccino, già consultore della dottrina della fede per la conferenza episcopale nordamericana. Nell'intervista che ho menzionato alla verità, lei segnala un altro punto discutibile dell'insegnamento di Papa Francesco. La sua controversa dichiarazione in un'intervista televisiva che egli spera che l'inferno sia vuoto, comenta il noto teologo cappuccino, e cito, Gesù invece pensava che l'inferno c'è e che le persone ci vanno. Pensiamo a quando parla delle due strade, una larga e una stretta, e dal fatto che la maggior parte degli uomini sceglie la prima, che porta alla dannazione, o quando dice che Giuda sarebbe stato meglio non fosse mai nato, frase da cui si deduce che la sua condizione non sia certo quella della beatitudine. Continua Padre Winendy. La Vergine di Fatima ai pastorelli mostrò l'inferno, e con i dannati dentro. È gravissimo che Papa Francesco faccia pensare il contrario, perché il risvolto pastorale è che le persone credano che, siccome all'inferno non ci va nessuno, allora non fa differenza come ci si comporta. Mina anche l'importanza della vita terrena, rendendo insignificante ogni virtù. Posso darmi al traffico di bambini, posso effettuare aborti senza che ci siano conseguenze. Perché mai poi dovrei morire? E visto che non c'è più l'inferno, perché fare questi atti di virtù? Chiaro che esiste il pentimento, che consiste anche al peggior peccatore di andare in cielo, ma se l'inferno non esiste, si esmarrisce il senso della vita e il valore della dignità umana. Fin qui la citazione di Padre Winendy. E visto che Padre Winendy accenna a Fatima, parliamo infine, per chiudere, dei pastorelli di Fatima. Vi ricordate che dal 13 maggio al 13 ottobre la Madonna è apparsa ai tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia. I due primi sono morti poco tempo dopo e sono già stati beatificati e canonizzati, quindi sono San Francesco di Fatima e Santa Giacinta di Fatima. Lucia è vissuta molto più a lungo, comunque ha già avviato il suo processo di beatificazione. Ricordiamo che Giacinta, Santa Giacinta, pregava e offriva sacrifici continui per il Santo Padre. Questo era il punto che più le chiamava l'attenzione. Altrettanto faceva il suo fratello, Francesco, cioè pregava tanto, però con l'intenzione particolare della conversione dei poveri peccatori. Lui tremava per la possibilità della loro dannazione eterna. Infatti, Francesco era il più, chiamiamolo, monello dei tre, quindi ha dovuto pregare tanto e fare tanti sacrifici per convertirsi e si è convertito adesso e santo. Con la loro eroica virtù e testimonianza, questi piccoli bambini pastori hanno nutrito con vero pasto spirituale il gregge di Cristo, anche dalla loro semplice condizione. Essi hanno fatto una vera pastorale. Il pastorello Francesco di Fatima ha capito che amare il peccatore è cercare di evitargli l'inferno, non consolidarlo nella pratica pecaminosa. Ha capito che doveva sacrificarsi per condurli sulla via della salvezza, accessibile anche al più miserabile traviato, purché abbia compunzione e desiderio di emendarsi. Che grande esempio sono stati questi piccoli pastorelli per tutti noi e soprattutto per quei pastori consacrati, questi con la P maiuscola, sia quelli di loro che hanno raggito davanti alle devianze apastorali, sia per quelli che hanno deciso per diversi motivi di restare muti, sia per quelli che infine pensano e agiscono nella convinzione che la Chiesa si debba adattare al mondo, non il contrario. In quest'ora oscura, San Francesco e Santa Giacinta di Fatima pregate per noi. Cari amici, finisco qui. Non dimenticare di mettere un like su questo video e di condividerlo con i vostri amici. Cerchiamo di far crescere questo canale affinché un maggior numero di persone possa essere puntualmente informata su cosa succede a Roma. E vi do appuntamento sempre qui su questo canale la prossima settimana. Arrivederci.